come da titolo in questa guida siccome me l'hanno chiesto nei commenti farò vedere come entrare nella schermata di creazione per creare oggetti tonici e tutto il resto e come creare le frecce ascoltate bene le frecce per selvaggina piccola quindi sta minchia sigla allora ragazzuoli per creare due modi il primo tenendo premuto l1 apriamo la ruota oggetti creazione accampamento ovvero creiamo l'accampamento dove possiamo cucinare eccetera 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 oppure attrezzi per creare oggetti che vi porta subito sulla schermata questa è una scorciatoia nel fare questo vi faccio vedere voi basta che siete su un territorio aperto tenete premuto triangolo e vi uscirà riposa lui riposa quadrato su crea e qua potete vedere tutte le cose che possiamo creare in questo caso in questa specifica guida andiamo su munizioni frecce selvaggina piccola e abbiamo la ricetta e non ho gli ingredienti perché una freccia serve una freccia che noi abbiamo comunque possiamo comprare dall'armaiolo una cartuccia di canna a canna liscia per i fucili a canna liscia che comunque possiamo creare dall'armaiolo possiamo comprare dall'armaiolo e una penna d'uccello mi raccomando uccello non gallina perché la gallina per esempio vi dà le penne di gallina voi dovete ammazzare un uccello per avere questa pena d'uccello adesso vado a prendere questa penna d'uccello ok prese ora ragazzi questo è molto importante una volta che vi mettete l'uccellino nella bisaccia andate sulla vostra bisaccia vi faccio vedere come tenendo premuto il la freccina destra vedete qui ho la carcassa schiacciate ricava materiali come avete visto più penna d'uccello avete visto me l'ha tutto suddiviso in cose e ho la piuma d'uscino ok e la penna d'uccello ragazzi che serve appunto per quello che dobbiamo fare eccoci qua ragazzi nel menu di creazione andiamo su munizioni come prima e ora abbiamo le frecce per selvaggina piccola bene possiamo creare una perché come avete visto prima ho solo una piena d'uccello creiamo se no comunque potete guardare anche tipo gli effetti crea una freccia bla 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 per cacciare il male di piccola taglia senza danneggiare la pelle eccetera 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 e niente andiamo facciamo su crea lui la crea e ce l'abbiamo salvata andiamo indietro esci allontanati e ora ve l'equipaggiate ecco qua tenendo premuto l1 quindi andate sulla ruota delle armi vedete che ora andando sull'arco e schiacciando le freccine possiamo abilitare ora selvaggina piccola che le munizioni si cambiano così schiacciando le freccine e sempre tenendo premuto per la ruota degli oggetti che è l1 come vedete adesso voilà ho la freccia per la selvaggina piccola niente io spero che avete capito tutto se non avete capito qualcosa scrivetemi nei commenti se volete altre guide specifiche scrivetemi nei commenti e non mi resta che dirvi ciao aiooo